Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Tempo in peggioramento nelle prossime ore a causa dell'ennesima perturbazione atlantica che ci raggiungerà proprio nella notte di oggi e apporterà un importante evento di maltempo nella giornata di domani. Questo è dovuto alla presenza di una saccatura di una bassa pressione ora centrata sul Golfo del Rodano che si sposterà via via verso il Golfo Ligure e quindi una giornata con maltempo quella di domani. Poi avremo un graduale miglioramento nel corso della giornata di lunedì ma ancora altre piogge arriveranno nel corso della settimana prossima. Infatti questa è la tendenza indicata un po' per fino a metà mese. Avremo diversi impulsi perturbati pilotati da un centro depressionario fra le isole britanniche e la Scandinavia che a più riprese ripetutamente invieranno corpi perturbati, quindi piogge e talora nevicate proprio in direzione delle nostre Alpi e anche in Valle Seriana. Quindi una tendenza a questo autunno spiccatamente variabile a tratti perturbato. Ecco, se osserviamo l'animazione da satellite di oggi, osserveremo proprio questa situazione dovuta alla presenza di area più fredda presente sulle isole britanniche e un corpo nuvoloso che si sta muovendo in direzione del nord Italia. Abbiamo avuto le prime piogge, piovigini nella giornata di oggi che via via tenderanno ad intensificarsi. Infatti vedete che il fronte freddo si sta via via avvicinando alla Francia e domani farà il suo ingresso proprio sul nord dell'Italia ed in Valle Seriana apportando un episodio di maltempo. Infatti giornata di domani caratterizzata dalla pioggia, pioggia talora insistente soprattutto nelle ore centrali della giornata, temperature in netto aumento soprattutto in quota quindi le nevicate sono previste solo oltre i 2600-2700 metri di altitudine questo determinerà anche una forte fusione del manto nevoso al di sotto di tale quota che potrebbe anche determinare un ingrossamento dei nostri fiumi dovuto appunto alla fusione della neve caduta nei giorni scorsi e le piogge abbondanti di domani quindi massima attenzione proprio nel corso della giornata. Nel pomeriggio continueranno queste piogge ancora insistenti e battenti soprattutto sui rilievi orobici tenderà gradualmente a migliorare nel corso della serata il tempo a partire da ovest e dai settori più meridionali della Valle Seriana. Come andrà la settimana? Abbiamo detto che non migliorerà in modo deciso il tempo infatti ancora sarà caratterizzato questo flusso perturbato atlantico lunedì ritroveremo le ultime piogge al primo mattino ma poi gradualmente migliorerà e vedete ancora temperature abbastanza elevate per il periodo comprese fra i 9 gradi di minima e i 14 gradi di massima acclusione martedì il tempo sarà spiccatamente variabile infatti a questo flusso umido meridionale si sostituirà un flusso più freddo proveniente dai Balcani e quindi vedete temperature in calo acclusione 3 gradi di minima 8 gradi di massima e nel pomeriggio arriverà qualche scroscio di pioggia e la quota neve in tal caso sarà più bassa infatti probabilmente martedì avremo spruzzate di neve nel pomeriggio oltre 1500-1700 metri di altitudine mercoledì giornata interlocutoria con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso temperatura abbastanza fresca al primo mattino comprese fra 0 e 1 grado acclusione 10 gradi di massima giovedì ancora qualche piovasco al pomeriggio per il passaggio di una debole perturbazione spruzzate di neve solo oltre i 1800-2000 metri di altitudine venerdì qualche nuvola ma nulla di preoccupante però purtroppo la linea di tendenza per il prossimo fine settimana vede l'inserirsi di un nuovo flusso atlantico perturbato proprio in direzione della nostra regione alpina e prealpina e portare un nuovo serio cambiamento del tempo proprio intorno al prossimo weekend con nuove piogge e con nuove nevicate oltre 2000 metri e per il meteo è tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2 grazie a tutti